Arrestato dai carabinieri a Ferentino, un 52enne del posto responsabile di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia nei confronti del padre anziano scaturiti dopo l'ennesima lite familiare generata per questioni ereditarie. I carabinieri, su richiesta della badante rumena, si recavano alla casa dei genitori anziani dell'arrestato che poco prima aveva cercato di colpire il padre con calce e pugni col suo bastone di sostegno. Successivamente cercava di colpirlo con un martello da carpentiere, non riuscendoci soltanto grazie all'intervento della badante. I carabinieri, una volta arrivati alla casa dell'anziana coppia, riuscivano dopo un breve inseguimento a bloccare il figlio nel giardino dell'abitazione. La sorella a quel punto denunciava il fratello per maltrattamenti nei confronti del padre mai denunciati. Il martello e il bastone usati per colpire il padre venivano sequestrati mentre l'uomo veniva condotto al carcere di Frosinone.